Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Questa mattina in centro tra Piazza dell'Esquilino e il Circo Massimo sfilerà un corteo per ricordare le vittime delle mafie. Tra le strade interessate via Merulana, via Lavicana e via di San Gregorio ci saranno modifiche per 18 linee tra bus e tram, contemporanee chiusure al traffico. Domani mattina invece il Presidente Mattarella sarà al Mausoleo Ardiatine in occasione della commemorazione dell'ottantesimo anniversario dell'Eccidio delle Fosse Ardiatine. Per quel che riguarda la viabilità ci saranno divieti di sosta con possibili rallentamenti.